Giacomo capitolo 3 Giacomo capitolo 3 questa mattina Giacomo 3 leggiamo dal versetto 1 al versetto 5 Giacomo 3 questa mattina dal versetto 1 al versetto 5 leggiamo quello che Giacomo ha scritto la chiesa ai credenti fratelli miei non siate molti a far da maestri sapendo che ne subiremo un più severo giudizio poiché manchiamo tutti molte cose se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo ecco anche le navi benché siano grandi così grandi e siano spinte da venti impetuosi sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere così anche la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose questa mattina ci fermiamo qui proseguiremo la prossima domenica fino al versetto 12 ma ci fermiamo qui questa mattina di fronte a versetti davvero importanti cruciali in questa lettera scritta da Giacomo ormai sapete bene che Giacomo scrive questa lettera a dei credenti vuole istruire i credenti riguardo l'essenza della fede cosa significa essere discepoli di Cristo cosa significa avere fede e salvifica al capitolo 1 ha parlato di di diverse cose Giacomo per istruire sul come vive colui che ha fede in Cristo fede e salvifica per esempio in mezzo alle prove come affronta le tentazioni e non solo da versetto 18 in poi del capitolo 1 ha parlato anche di ascoltare con umiltà la parola di Dio sapete potremmo ascoltare la parola di Dio ma non con umiltà non con sottomissione Giacomo ha dovuto ricordare che l'ascolto deve essere con umiltà e non solo dice ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi il rischio che c'è di ascoltare la parola di abituarci ad ascoltarla ma senza metterla in pratica al capitolo 2 Giacomo ha parlato invece del favoritismo Giacomo ha condannato questo atteggiamento il favoritismo mostrando che colui che ha fede in Cristo non ha questo atteggiamento di favoritismo ma ama il prossimo come se stesso è misericordioso verso il prossimo perché? perché ricorda l'amore di Dio la misericordia di Dio e ricorda la grazia di Dio versetto 5 del capitolo 2 vi ricordate disse ascoltate fratelli miei carissimi Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed è eredito il regno che ha promesso a quelli che lo amano ha ricordato che Dio ha scelto noi quando parliamo del Vangelo della grazia parliamo di ciò che Dio ha fatto nei nostri confronti e di conseguenza già come dice il nostro atteggiamento verso il prossimo dipende dalla conoscenza che abbiamo della grazia di Dio pensare alla sua grazia lui che ha scelto noi poveri secondo il mondo non perché meritavamo ciò ci porta ad amare il prossimo in modo incondizionato non solo dal versetto 14 fino al 26 Giacomo ha parlato della fede salvifica il rischio che ci può essere in mezzo ai credenti di affermare di credere di professare la fede ma non produrre nessun frutto spirituale avere fede in Cristo dire di avere fede ma senza le opere Giacomo dice questa fede è vana questa fede è morta questa fede è infruttuosa questa fede non è salvita non salva nessuno potrebbe esserci questa fede in mezzo ai credenti e Giacomo parlando a dei credenti non sta evangelizzando parlando a dei credenti vuole essere sicuro che i credenti sappiano che la fede in Cristo produce opere perché perché Dio mediante la sua opera di rigenerazione produce dei frutti visibili che testimoniano che la fede nostra salvifica la nostra fede non è la fede di un musulmano non è la fede degli atei o degli agnostici perché anche loro hanno fede ma è una fede che è il frutto dell'opera miracolosa di Dio nella nostra vita Giacomo non ha insegnato in questi versetti che la salvezza è per opera assolutamente no Giacomo ci ha ricordati che è lui Dio che ci ha generato secondo la sua volontà mediante la parola di verità è Dio che ci ha rigenerati il capitolo 2 Giacomo vuole mostrare che la fede dei credenti una fede operante una fede che produce dei frutti visibili non sta contraddicendo l'apostolo a Paolo Paolo parla di opere in riferimento alla legge all'ubbedienza alla legge contrastando quello che Giudei insegnavano che la salvezza era per l'ubbedienza alla legge Giacomo parla di altre opere di frutti visibili e ha mostrato quali frutti ha fatto un esempio Abramo la fede di Abramo come si è manifestato come una fede reale e salvifica Abramo disposto a sacrificare suo figlio disposto a sacrificare a uccidere suo figlio Dio ha attestato la sua fede Dio vuole attestare la nostra fede e attraverso la predicazione del Vangelo che noi presentiamo quella che è la vera fede salvifica questa fede che produce dei frutti visibili infatti termina versetto 26 come il corpo senza l'ospito è morto così anche la fede senza le opere è morta Giacomo in questa lettera parlerà di tante opere tanti frutti visibili abbiamo visto al capitolo 1 l'ubbedienza alla parola abbiamo visto che ha parlato di una vera religione se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso la sua religione è vana ha parlato dell'amore per il prossimo la misericordia e ora capitolo 3 Giacomo parlerà di un altro frutto visibile della fede salvifica ed è questo l'autocontrollo nel parlare tenere a freno la lingua ho appena letto quello che Giacomo disse al capitolo 1 se uno pensa di essere religioso ovvero di essere devoto a Dio consacrato a Dio di essere salvato o dice di aver fede ma non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso di conseguenza la sua religione è vana è inutile ora Giacomo ritorna a parlare di questo sapete perché è molto semplice perché è un aspetto cruciale per la nostra vita tenere a freno la nostra lingua Giacomo parla più volte di questo al capitolo 4 parlerà della critica della maldicenza al capitolo 1 nei primi versetti dice di essere lenti a parlare è un tema costante perché è fondamentale per la nostra vita Dio vuole istruirci sul come parlare vuole istruirci mostrandoci l'importanza di tenere a freno la nostra lingua vedremo due aspetti questa mattina l'importanza dell'autocontrollo nell'insegnare i primi due versetti e poi l'importanza dell'autocontrollo nel parlare i versetti successivi iniziamo con i primi due versetti versetto 1 è la prima parte del versetto 2 l'importanza dell'autocontrollo nell'insegnare Giacomo inizia in questo modo fratelli miei non siate molti a far da insegnanti letteralmente dice non molti diventiate insegnanti non molti diventiate insegnanti Giacomo sta esortando questo è un imperativo non è un consiglio quando riuscite ma non molti diventiate insegnanti ora non vuole scoraggiare all'insegnamento non vuole scoraggiare all'insegnare la parola di Dio ma è un avvertimento qui l'enfasi infatti nel testo greco è molto più chiaro è sulla frase molti non in molti diventiate insegnanti questo è un avvertimento che è rivolto tra l'altro ai credenti perché dice fratelli miei non sta parlando di falsi insegnanti non sta parlando di eretici parla di figli di Dio sta istruendo coloro che sono in Cristo a non essere molti e far da insegnanti quindi non applichiamo questo agli eretici ai falsi insegnanti perché qui sta parlando ai credenti a noi fratelli miei Giacomo sempre con amore e affetto fratelli miei Giacomo si sta esortando perché ha amore per i fratelli se siamo qui e ritorniamo sempre ad esortare al cammino non è perché non c'è amore come pastore sono qui esortare spesso ho paura quasi che vi stanchiate ma questo è per amore questo è il vero amore incoraggiarci ad andare alla parola di Dio e a comprendere realmente come vivere in modo fedele Giacomo come pastore scrive ed esorta ma dice fratelli miei non i molti diventiate insegnanti questo è un avvertimento serio è un avvertimento che ha lo scopo di incoraggiare i credenti ad avere autocontrollo per quanto riguarda specificamente l'insegnamento insegnare sapete il rischio in quel contesto così come nel nostro contesto di chiesa è che ci sia questa tendenza di essere frettolosi nell'insegnare è la volontà di porsi come insegnanti senza considerare la responsabilità qui dice non siate in molti non è per tutti l'insegnamento non riguarda tutti è fondamentale avere autocontrollo per quanto riguarda l'insegnamento anche Paolo nella sua lettera ai Corinzi è dovuto istruire lo parla di profezie quel tempo c'erano ancora i profeti due o tre affinché non ci sia caos durante l'incontro di chiesa questa libertà di insegnare senza considerare la responsabilità Giacomo inizia parlando di questo autocontrollo che riguarda proprio l'insegnamento e attenzione non parla semplicemente degli anziani di chiesa dei pastori non siete in molti a fare da maestri certo vuol dire anche insegnanti come pastori anziani di chiesa ma qui si riferisce anche ad altri ruoli di insegnamento per esempio insegnare i bambini in chiesa o i giovani qualsiasi ruolo di insegnamento o anche tra fratelli non siete in molti a porvi come insegnanti gli uni verso gli altri attenzione Giacomo non vuole scoraggiare per quanto riguarda l'insegnamento ma vuole incoraggiare a considerare la responsabilità non essere troppo frettolosi nell'insegnamento considerare per esempio se si è qualificati per insegnare per esempio come anziani di chiesa come pastori si è qualificati biblicamente per insegnare oppure si è chiamati da Dio a fare ciò oppure c'è un cammino coerente anche tra membri di chiesa se ci poniamo come insegnanti e vogliamo esortare istruire gli altri il nostro cammino è coerente con quello che stiamo affermando perché se non è coerente ci sarà una cattiva testimonianza e le persone incominceranno a dire che siamo degli ipocati questa è la tendenza che c'è oggi purtroppo di forse come insegnanti troppa libertà e frettolosità nel voler insegnare dietro questo pulpito per esprimere se stessi ma l'insegnamento non è per esprimere se stessi guardate quello che dice dopo fratelli miei non siate molti a far da insegnanti dice perché sapendo consapevoli che ne subiremo un più severo giudizio Giacomo include se stesso con umiltà Giacomo un insegnante include se stesso e dice sapendo consapevoli che ne subiremo un giudizio più grande letteralmente più grande Giacomo umilmente include se stesso e ci mostra perché questo avvertimento perché non siate molti a far da insegnanti perché Giacomo deve avvertire a motivo della grande responsabilità di coloro che insegnano una grande responsabilità dovranno rendere conto a Dio per quello che hanno insegnato per quello che hanno detto per come hanno usato il loro ruolo di insegnanti nella Chiesa ci sarà un giudizio questo giudizio per i credenti e il tribunale di Cristo non si parla del giudizio della condanna eterna ma si parla del tribunale di Cristo un brano un esempio è seconda Corinzi 5 10 Paolo parla di questo giudizio che riguarda i credenti seconda Corinzi 5 10 dice noi tutti parlando di credenti noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo sia in bene sia in male questo non è il giudizio dei non credenti ma dei credenti ci sarà una valutazione della nostra vita sì siamo salvati per grazia non per opere ma c'è un giudizio per noi credenti abbiamo davvero dato noi stessi costantemente costantemente a Cristo consacrati a Lui determinati e specificamente tornando in Giacomo 3 per quanto riguarda l'insegnamento la grande responsabilità per quanto riguarda coloro che insegno spesso c'è questa fretta volontà di parlare di istruire di consigliare con autorità ma poi non c'è un cammino spirituale se notate per esempio Paolo quando parla ai Galati dice se c'è un fratello che è caduto voi che siete spirituali rialzato incoraggiato istruito Giacomo ricorda che c'è questo tribunale questo giudizio di Dio e che coloro che insegnano dovranno rendere conto a Dio di conseguenza Giacomo dice non siate molti a far insegnare non riguarda tutti è una grandissima responsabilità ci sarà un giudizio da parte di Dio chi insegna ha maggiore responsabilità ha una grande responsabilità davanti a Dio qualsiasi ruolo di insegnamento anche nei bambini anche chi insegna ai bambini qual è il suo cammino davanti a Dio è chiamato da Dio a fare ciò qualsiasi ruolo di insegnamento non solo l'anziano la consapevolezza del giudizio di Dio porta ci porta ad avere questo senso di responsabilità e conduce di conseguenza all'autocontrollo per quanto riguarda l'insegnamento considerando la grande responsabilità di coloro che insegnano voglio mostrarvi quello che anche Paolo disse in alcuni versetti in Atti 20 ascoltate quello che Paolo disse riguardo all'insegnamento Paolo aveva la stessa consapevolezza Atti 20 26 perciò qui sta parlando Paolo agli anziani di Efeso perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio Paolo dice sono puro del sangue di tutti voi perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio un insegnante fedele proclama tutto il consiglio di Dio non seleziona ciò che le persone desiderano sentire una grande responsabilità versetto 28 parlando degli anziani badate a voi stessi a tutto il greggio in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti i vescovi per pace per la chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue lui parla di anziani di chiesa sono servitori e devono passere la chiesa di Dio ecco perché proclamare tutto il consiglio di Dio perché la chiesa di Dio e la chiesa deve conoscere tutto ciò che Dio ha rivelato l'insegnante è uno strumento l'insegnante che insegna non fa ciò perché è gratificato in quello che fa ma perché ha un senso di responsabilità non solo non solo l'Apostolo Paolo scrivendo a Timotio nella sua ultima letta prima di morire ascoltate quello che disse a Timotio 2 Timotio 4 ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione il suo regno predica la parola insisti in ogni occasione favorevole sfavorevole convinci rimprovera esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza ma tutto questo è la luce del giudizio di Cristo che deve giudicare i vivi e i morti colui che insegna è responsabile davanti a Dio ha una responsabilità davanti a Dio non solo anche l'autore della lettera degli ebrei questa lettera scritta agli ebrei perseguitati ebrei 13 17 ascoltate ascoltate ubbidite dice ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto affinché facciano questo con gioia non sospirando perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità io come insieme di chiesa dovrò rendere conto della vostra anima ecco perché desidero proclamare tutto il consiglio di Dio ecco perché desidero esortare come fa la scrittura ecco perché desidero discepolare non è un mestiere che qualcuno sceglie perché piace insegnare nel ruolo di grande responsabilità e dice qui di obbedire perché perché gli anziani sottomessi a Dio devono rendere conto dell'anima di coloro che Dio ha messo davanti a Lui pensate anche nell'Antico Testamento ancora due versetti Ezechiele il profeta Ezechiele ascoltate quello che Dio disse ad Ezechiele Ezechiele 3 17 figlio mio io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele quando tu dai dalla mia bocca una parola tu li avvertirai da parte mia quando io dirò a Lempio certo morirai se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'Empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita quell'Empio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano Ezechiele 33 anche qui 7 9 33 ora figlio d'uomo io ti ho stabilito te io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele quando dunque udrai qualche parola della mia bocca avvertili da parte mia quando avrò detto all'Empio Empio per certo tu morirai e tu non avrai parlato per avvertire l'Empio che si allontani dalla sua via quel Lempio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano ma se tu avverti l'Empio che si allontani dalla sua via e quello non si allontana egli morirà per la sua iniquità ma tu avrai salvato te stesso la grande responsabilità del profeta di Ezechiele degli anziani di Chiesa e così di chiunque ha un ruolo di insegnamento chiunque Giacomo avverte i credenti avverte noi questa mattina non essere molti a far da insegnanti perché consapevoli che ci sarà un giudizio più grande per coloro che insegnano una grande responsabilità in altre parole Giacomo non solo vuole esortarci ad essere lenti a parlare ma anche ad essere lenti ad insegnare lenti ad insegnare tenere a freno le lingue ribadisco non vuole scoraggiare ad insegnare ma vuole incoraggiare a considerare la grande responsabilità di coloro che insegnano la grande responsabilità che hanno infatti guardate quello che sempre Paolo scrive a Timoteo nella sua ultima lettra prima di morire secondo Timoteo 2,15 dice sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato un operaio che non abbia di che vergognarsi che dispensi rettamente la parola della verità ecco come un anziano sarà un operaio che non avrà di che vergognarsi un uomo approvato da Dio quando dispensa rettamente la parola della verità è così chiunque ha un ruolo di insegnamento nella Chiesa fratelli questa è la parola di Dio se usiamo questo libro in modo improprio stiamo testimoniando di un messaggio che non è conforme a ciò che Dio ha rivelato è qualcosa di gravissimo e sapete questo è quello che succede purtroppo si usano versetti e si danno ai versetti significati diversi distorcendo quello che Dio ha rivelato pensate se qualcuno facesse così con noi che prende un nostro messaggio una nostra frase dando a quella frase un significato che non ha qualcosa di molto grave ma qui si parla della parola di Dio ecco che Giacomo sta avvertendo perché insegnare la parola è qualcosa di veramente molto molto importante una grande responsabilità ma poi aggiunge qualcosa versetto 2 la prima parte perché non essere molti ad insegnare perché non prendersi questa libertà di insegnare questa frettolosità che spesso c'è nella chiesa di insegnare di voler predicare di voler essere un insegnante nella chiesa perché poiché manchiamo tutti molte cose poiché dice noi tutti cadiamo inciampiamo in molte cose Giacomo include se stesso ancora una volta e di cosa parla qui della peccaminosità di tutti quanti noi vuole ricordare non solo il giudizio di Dio ma anche che tutti siamo mancanti e se siamo mancanti lo saremo anche per quanto riguarda la parola e quale conseguenza negativa nell'insegnamento poiché tutti manchiamo in molte cose in molti modi tutti quanti manchiamo di conseguenza non siate molti a far pensare niente alla luce della nostra peccaminosità anche se siamo in Cristo manchiamo in molte cose alla luce di questo Giacomo ci esulta non essere in molti perché è una grande responsabilità perché potremmo fraintendere quello che è il messaggio della Bibbia e potremmo insegnare in modo errato e guidare in modo errato e illudere le persone la lingua è uno strumento usato per l'insegnamento ma se sbagliamo nel parlare sbaglieremo anche per quanto riguarda l'insegnamento Giacomo quindi vuole esortarci a fare molta attenzione a non essere frettolosi nell'insegnare anche come membri di Chiesa a non porsi con troppa libertà come insegnanti verso gli altri consapevoli che ci sarà un giudizio un giudizio più grande per coloro che insegnano e consapevoli della nostra peccaminosità è fondamentale quindi prima di insegnare esaminare noi stessi considerare le motivazioni che ci spingono a insegnare cosa ci motiva a insegnare cosa ci spinge a fare ciò e considerare la chiamata di Dio se siamo qualificati perché sapete la scrittura specifica nei dettagli parlando di anziani di pastori chi sono coloro che Dio chiama ad essere insegnanti la scrittura parla in modo chiaro quali sono le qualifiche per essere insegnanti prima Timoto 3 Tito capitolo 1 specifica nei dettagli chi sono coloro che possono essere insegnanti pastori non perfetti nessuno perfetto ma persone qualificate per insegnare per istruire preparate che usano questo libro in modo fedele perché questa è la parola di Dio e vogliamo usarla in modo fedele perché l'insegnante si pone come messaggero di Dio Giacomo vuole avertirci riguardo l'autocontrollo dell'insegnamento passiamo al secondo punto perché Giacomo ha iniziato parlando di insegnamento ma ora passa a parlare dell'importanza dell'autocontrollo nel parlare non solo l'insegnare inziani di chiesa pastori o persone che hanno un ruolo di insegnamento nella chiesa ma ora parla dell'autocontrollo per quanto riguarda il parlare che dice questo versetto 2 se uno non sbaglia nel parlare è un nuovo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo dopo aver presentato la peccaminosità di noi tutti dopo aver confessato ciò Giacomo confessa ciò riconosce che manchiamo tutti molte cose quindi attenzione a chi si pone come insegnante ora dice se qualcuno se qualcuno non cade nel parlare è un uomo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo però qui parla di uomo perfetto ed è chiaro che non si riferisce a colui che è privo di peccato perché ha appena detto che tutti manchiamo in molte cose si riferisce come al capitolo 1 versetto 4 alla maturità se qualcuno non sbaglia nel parlare se ha autocontrollo nel parlare è un uomo maturo dimostra maturità e di conseguenza avrà autocontrollo per quanto riguarda altri aspetti della vita se tiene a freno la sua lingua è maturo ed è capace anche di tenere a freno tutto il suo corpo ribadisco il termine perfetto significa maturo qui come versetto 4 quando disse che la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siete perfetti e completi di nulla mancanti non parla di perfezione privi di peccato parla di maturità maturità spirituale chi ha autocontrollo nel parlare di conseguenza ha autocontrollo anche in altri aspetti della sua vita è in grado di tenere a freno il suo corpo riguardo a peccati di vario tipo se ha autocontrollo nel parlare quindi qui comprendiamo quanto è importante l'autocontrollo nel parlare quanto è importante perché se teniamo a freno la lingua riusciremo a fare ciò anche con il nostro corpo qualsiasi altro aspetto Giacomo evidenzia l'importanza e la necessità dell'autocontrollo nel parlare è fondamentale quindi insegniamo noi stessi non solo quando qualcuno insegna e ha questo ruolo ma anche nel parlare avere questo autocontrollo Giacomo non sta dicendo di non parlare più parlare poco non è sinonimo di umiltà attenzione il problema riguarda l'orgoglio che è nel cuore qui vuole istruirci ad avere autocontrollo nel come parliamo e chi è in grado di tenere a freno la sua lingua dimostra maturità ecco un frutto spirituale della fede salvifica l'autocontrollo nel parlare ma per quale motivo è così importante questo autocontrollo perché è così necessario avere autocontrollo nel parlare quello che vediamo nei prossimi versetti è questo a motivo del potere che la lingua ha a motivo della pericolosità della lingua già come illustra ciò attraverso due esempi per mostrarci il potere che la lingua ha quanto è pericolosa e quanto è importante come credenti avere autocontrollo sentite quello che dice versetto 3 primo esempio prima illustrazione versetto 3 dice se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo se mettiamo il freno in bocca ai cavalli qui parla delle briglie il morso il morso che viene messo proprio in bocca al cavallo sopra la lingua del cavallo e facendo ciò l'uomo è in grado di guidare tutto il corpo del cavallo grazie a questo questa briglia a questo morso a questo freno è possibile guidare tutto il corpo di questo cavallo grande forte nonostante sia un piccolo membro la bocca ma se controlli la bocca controlli tutto il suo corpo e poi c'è un'altra illustrazione 4 letteralmente dice da greco guardate anche osservate anche le navi benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere anche qui le navi sono grandi sono spinte da venti molto forti ma basta il timone un piccolo timone per guidare una nave nonostante ci siano i venti forti nonostante sia grande basta il timone piccolo per guidare tutta la nave due illustrazioni per mostrare che cosa che basta avere controllo su un piccolo membro la bocca del cavallo o su il timone questo piccolo timone che è possibile avere il controllo su tutto il corpo del cavallo e tutta quanta la nave sono due esempi due illustrazioni che ci mostrano che cosa che se teniamo a freno la nostra lingua versetto 2 riusciamo siamo in grado di tenere a freno anche tutto il corpo la stessa cosa se mettiamo il freno in bocca ai cavalli noi guidiamo tutto il cavallo il suo corpo se teniamo il freno in la nostra bocca autocontrollo da quel punto potremo avere autocontrollo su tutto il nostro corpo ecco il frutto dell'autocontrollo per quanto riguarda il parlare ci porterà ad avere autocontrollo per quanto riguarda altri aspetti della nostra vita è quindi cruciale per noi credenti considerare quanto è fondamentale l'autocontrollo nel parlare per la nostra vita spirituale l'impatto che ha questo autocontrollo per quanto riguarda il nostro cammino spirituale la nostra vita infatti poi dice dopo queste due illustrazioni così anche la lingua dice è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose anche la lingua è un piccolo membro come il timone come la bocca del cavallo eppure dice si vanta di grandi cose cosa vuol dire Giacomo qui Giacomo sta personificando la lingua dicendo che la lingua pur essendo un piccolo membro si vanta di grandi cose la lingua ha un grande potere ha un grande potere una grande influenza su tutto il resto infatti vedremo la prossima domenica nei prossimi versetti vedremo le conseguenze della lingua del parlare moderato è fondamentale avere autocontrollo nel parlare per quanto riguarda la lingua perché pur essendo un piccolo membro ha un grande potere una grande influenza lo vedremo nei prossimi versetti una grandissima influenza si vanta di grandi cose perché sapete la lingua ha il potere di distruggere una persona attraverso l'insulto attraverso l'oltraggio distruggerla dal punto di vista morale e spirituale la lingua ha il potere di distruggere la reputazione di una persona attraverso la maldicenza gli altri guarderanno quella persona a motivo di una lingua quale influenza la lingua ha il potere di distruggere le relazioni creando divisioni la lingua crea divisioni ha un grande potere una grande influenza non solo su noi stessi ma sugli altri Giacomo esorta avere autocontrollo nel parlare e attraverso queste due illustrazioni ha evidenziato quanto la lingua pur essendo un piccolo membro ha una grande influenza si vanta di grandi cose può distruggere le relazioni può distruggere le chiese a motivo della maldicenza questo è quello che può fare la lingua ed ecco perché è importante per coloro che sono in Cristo che hanno fede salvifico l'importanza è di tenere a freno la lingua perché quando faranno ciò sono in grado di tenere a freno anche tutto il corpo cambierà il loro atteggiamento anche la loro vita in questi versetti questa mattina questa prima parte proseguiremo la prossima domenica Giacomo esorta a tenere a freno una lingua un aspetto essenziale che riguarda anche qui la fede salvifica la fede di coloro che sono in Cristo la prima cosa mette in luce l'autocontrollo nell'insegnare l'importanza di avere autocontrollo nell'insegnare non tutti siate insegnanti questo è quello che dice non tutti l'importanza di essere qualificati chiamati da Dio l'importanza di avere un cammino coerente con quello che insegniamo questa frettolosità di poter di parlare con i fratelli di insegnare poi c'è un cammino incoerente sapete questa è una cattiva testimonianza perché le persone ci guardano giustamente e Gesù disse così risplenda la vostra luce davanti agli uoni affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che mi cede non basta parlare e insegnare ci deve essere una vita una condotta coerente è una responsabilità per coloro che insegnano davanti a Dio una grande responsabilità è un peso essere qui a insegnare ecco perché seguire il testo biblico anziché creare un messaggio usando vari versettini seguire il testo biblico perché è facile usare la parola di Dio per insegnare dei falsi insegnamenti è facile Giacomo avverta riguardo l'insegnamento non siete molti a far da insegnanti ma poi riguarda questo autocontrollo riguarda anche il parlare colui che ha autocontrollo nel parlare dimostra di essere maturo e avrà autocontrollo anche per quanto riguarda altri aspetti della sua vita e del suo cammino così come possiamo controllare una nave che è grande attraverso un timone o un cavallo attraverso la bocca possiamo controllare tutto il nostro corpo la nostra vita faremo scelte radicali fedeli sottomesse a Dio se siamo coerenti con quello che diciamo ma il tutto inizia con l'autocontrollo per quanto riguarda il parlare promettere a Dio delle cose affermare cose che poi non didiamo l'importanza di avere autocontrollo nel parlare perché se non c'è questo autocontrollo non ci sarà nemmeno un altro aspetti della vita con gravi conseguenze non solo per noi stessi ma anche per gli altri per esempio la maldicenza Giacomo 15 esorda e fa ciò più volte ha fatto ciò al capitolo 1 quando ha istruito ad essere lenti a parlare Giacomo 1 19 versetto 26 e disse questo se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso la sua religione è vana non avere autocontrollo è un brutto segno qui Giacomo dice Dio attraverso Giacomo che la religione è vana la propria devozione è semplicemente l'apparenza capitolo 3 abbiamo visto Giacomo parla di autocontrollo nel parlare lo vedremo anche nei prossimi versetti poi capitolo 4 parlerà sempre a credenti dicendo non sparlate gli uni e gli altri fratelli chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge è di Dio ora se tu giudichi la legge non sei uno che la mette in pratica ma un giudice uno soltanto è legislatore giudice colui che può salvare e perdere ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo la gravità del giudizio della crisi che può esserci nella chiesa l'importanza di essere disciplinati per quanto riguarda il parlare autocontrollo perché questo avrà un impatto nella nostra vita per esempio se siamo doppi nel parlare se c'è doppiezza nel parlare ci sarà doppiezza anche nell'atteggiamento se si è doppi nel parlare se dice una cosa poi ne diciamo un'altra ci sarà doppiezza anche nell'atteggiamento ipocrisia e voglio concludere con alcuni versetti dell'apostolo Paolo dove mostra questo autocontrollo nel parlare Efesini 4 Efesini 4 Paolo istruisce sul come parlare Giacomo non ci istruisce ad essere silenziosi ma ad avere autocontrollo nel parlare e Paolo parlando di ciò Efesini 4 29 ascoltate nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che difichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazie a chi l'ascolta questo autocontrollo nel parlare non vuol dire stare in silenzio ma vuol dire usare la lingua per edificare il prossimo non per distruggerlo se ne avete qualcuna buona allora si parlate per edificare ma se non c'è una buona parola è meglio tacere per confessare il proprio peccato ma voglio leggere il versetto 30 ascoltate come dice il collo non rattristate l'ospito santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione se non c'è autocontrollo nel parlare noi rattristiamo lo spirito santo di Dio quale conseguenza grave e potremmo vivere nella cecità pensando di aver comunione con Dio mentre invece abbiamo rattristato lo spirito santo e non ci rendiamo conto a meno che c'è quell'autocontrollo nel parlare se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo bisogno o lo condanna la maldicenza perché facendo ciò rattristiamo lo spirito santo e con l'influenza della lingua addirittura potremmo rattristare lo spirito santo non avere comunione con Dio vivere nella cecità se non c'è autocontrollo nel parlare poi aggiunge via da voi ogni amarezza ogni crucio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorte di cattiveria si parla di crema siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi dicendo come anche Dio vi ha perdonato in Cristo e con l'autocontrollo nel parlare non significa non parlare più ma parlare per edificare il prossimo i fratelli il loro bene questo autocontrollo non solo nell'insegnare consapevoli della grande responsabilità ma l'autocontrollo anche per quanto riguarda il parlare qui Giacomo parla ai fratelli Giacomo parla a noi versetti importanti che ancora una volta riguardano che cosa frutti visibili della fede sabita frutti visibili di coloro che sono in Cristo che confessano le loro mancazze come Giacomo e riconoscono la necessità di avere autocontrollo nel parlare grazie a tutti